Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 6 dicembre e 1 gennaio sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Per Capodanno però questo divieto sarà esteso dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino del 1 gennaio. Ovviamente ci si potrà sempre spostare per esigenze lavorative, per motivi di salute e anche per casi di necessità. E voglio anche chiarire che nei casi di necessità ricorre, faccio un solo esempio, anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti. In ogni caso è sempre consentito il rientro nel comune in cui si ha la residenza, sia il domicilio, che è il luogo di lavoro, il luogo delle attività abituali, o dove è la propria abitazione, vale a dire il luogo dove si abita con continuità o periodicità. Ecco, questo permetterà, faccio un esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane, distanti per motivi di lavoro, ma che convivono quantomeno con una certa frequenza a periodicità nella medesima abitazione. Rientri dall'estero. Gli italiani che andranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio a rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. È una misura chiaramente dissuasiva, non sappiamo dove andranno, non sappiamo se dove andranno, saranno consentiti veglioni, festeggiamenti e quali misure saranno previste. Ma anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo saranno sottoposti alla stessa misura della quarantena. Il Presidente si è anche espresso sull'apertura dei negozi ed è una misura per sostenere le attività commerciali, il piano Italia Cashless. Ascoltiamo le parole del Premier. Quanto ai negozi. Da venerdì 4 dicembre fino al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. Non vogliamo limitare lo shopping, la consuetudine di scambiare dei doni natalizi. Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali saranno però aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai. Sempre in collegamento con lo shopping cosiddetto natalizio per sostenere le attività commerciali, questo settore che è in grande sofferenza e anche per aiutare le famiglie. Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia Cashless. Cosa significa? Che dall'8 dicembre prenderà via l'extra cashback di Natale che prevede che chi paga con carte, carte anche pressoché gratuite app, avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Tutto, anche comprando pane, pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista. Ci sarà un rimborso che potrà quindi arrivare sino a 150 euro e questo, attenzione, non vale per la famiglia ma per la singola persona. Quindi sarà accumulabile anche all'interno della famiglia. Abbiamo voluto peraltro evitare che questa misura di vantaggio fosse valida anche per gli acquisti online. Perché è un periodo questo della pandemia in cui tutti, un po' tutti, abbiamo incrementato o contribuito a incrementare gli acquisti online. Adesso però dobbiamo favorire gli esercizi commerciali, i negozianti, gli esercizi di prossimità. Ancora, vi ricordo che per partecipare a questo programma dovete scaricare l'app Io, identificarvi con la vostra carta di identità elettronica o speed. Sembra molto complicato ma vedrete che è molto semplice. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parla durante la sua abituale conferenza stampa dei medi in diretta social. Ha detto alla Regione Campania che uscirà prima dal coronavirus e pur sempre in un clima di trasparenza. Abbiamo raddoppiato le terapie intensive, ora ne abbiamo occupate il 26-27%. Questo mentre in Italia ci troviamo davanti a dati che sono clamorosamente falsati. Ci sono Regioni che trasmettono un dato inverosimile per far abbassare la percettuale di ricoverati in terapia intensiva. Nelle poche settimane sarà chiaro che la Campania è una delle Regioni che ha trasmesso i dati veri. Vi erano Regioni che dicevano di fare 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 test al giorno, poi sono scese improvvisamente. Invece la Campania è una delle Regioni che fa dai 25.000 ai 15.000 test veritieri, molecolari. Spiega De Luca, siamo la Regione che trasmette i risultati dei tamponi entro 24 ore con un SMS a quasi la totalità di chi effettua il tampone. Ha detto il Presidente che ha toccato anche l'argomento della vaccinazione, precisando che 1.500.000 vaccini influenzali sono arrivati in Regione. Anche per la situazione anti-Covid, la Campania è e sarà all'avanguardia. Da gennaio sarà prevista una sorta di esercitazione per una vaccinazione anti-Covid straordinaria. Vedrete che saremo anche in questo una Regione all'avanguardia, ha detto Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato anche di che si va concludendo finalmente una campagna di aggressione che aveva un solo obiettivo, spostare l'attenzione dell'Italia delle Regioni del centro-nord in grave difficoltà sulla Campania e su Napoli per dilottare l'attenzione politica. Le risorse arrivate in Regione Campania sono state dei dati falsi, hanno detto alcune trasmissioni televisive, dato che la Campania è la Regione che riceve meno risorse in merito alle Regioni del nord. Non solo non ci hanno dato nulla, ma siamo la Regione che ancora oggi combatte ricevendo meno di altri, siamo la Regione che ha meno personale rispetto alle altre Regioni in proporzioni, 16.000 dipendenti rispetto al Veneto, che con un milione di abitanti in meno, 15.000 rispetto alla Lombardia. L'abbiamo chiesto, ha detto De Luca, 800 tra medici e infermieri, abbiamo ottenuto 10 anestesisti, 80-85 medici e un numero analogo di infermieri. Quindi si conferma che quello che ha fatto la Regione Campania non l'ha fatto nessuna Regione d'Italia. Siamo in eccellenza, abbiamo la mortalità Covid più bassa d'Italia, la percentuale di terapie intensive più bassa rispetto ad altre realtà di questo Paese, elenca il Presidente della Regione Campania. Vi invito ancora a cambiare canale quando ci sono le trasmissioni che dicono cose false per distogliere l'attenzione dal nord a Napoli. Vedrete che a differenza di ciò che dicono queste trasmissioni non c'è nemmeno una fila a Cardarelli o al Cotugno e che nessuno nella seconda ondata di coronavirus è stato messo sui materassini a terra, come è successo in altre parti d'Italia. Non ci sono aperti pochi di ricoveri nelle palestre, nelle sagrestie, nelle chiese. Abbiamo accolto, ospitato e curato con dignità tutti, ha spiegato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un nuovo focolare di coronavirus colpisce la provincia di Napoli. 22 suore dell'Istituto Religioso Mazzarello di Tornaruzziata sono fatte risultate positive al tampone molecolare. A comunicare l'esito del test è stata l'ASL Napoli 3 Sud. Tra le suore contagiate ce ne sono sei ultra-novantenni, mentre le altre hanno più di 80 anni. Nessuno a momento ha sintomi tali da necessitare di ricovero ospedaliero e sono state tutte poste in isolamento. Da venerdì 4 dicembre parte ufficialmente il primo servizio gratuito di consegna dei libri a domicilio nella città di Caserta, l'idea natale delle associazioni che gestisce il progetto Biblioteca Bene Comune, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il Libro e la Lettura. all'indomani del decreto dello scorso 3 novembre che chiudeva le biblioteche a causa Covid-19 ma confermava i libri tra i brevi di prima necessità e pertanto ne consentiva la consegna, il prestito, nonché la vendita. Le associazioni del progetto Biblioteca Bene Comune hanno quindi avviato lungo e condiviso il lavoro di acquisto di libri, catalogazione e reperimento di testi donati dai singoli cittadini ed altre organizzazioni del territorio per creare il Fondo Biblioteca Bene Comune che verrà successivamente donato alla Biblioteca Ruggero di Caserta i cui testi sono da oggi richiedibili per la consegna a domicilio. Il catalogo è possibile consultare sul sito web www.bibliotecacomune.org composto da 437 titoli e verrà aggiornato settimanalmente. Contiene i best-seller del 2020, un'ampia scelta di libri per bambini e ragazzi, testi di storia, saggistica, raccolte di poesie, albi illustrati, libri in diverse lingue e testi accessibili ed inclusivi. E passiamo allo sport, niente pass per i sedicesimi di finale per il Napoli di Rino Gattuso che non è andato oltre l'1-1 ieri sera contro la Zeta Alkmaar rimandando il discorso qualificazione all'ultimo turno quando doveva almeno pareggiare contro la Real Sociedad che non è andata oltre 2-2 contro il Rieca. Rino Gattuso, notore del Napoli, ha detto dopo il pareggio potevamo chiudere, non siamo stati bravi, non abbiamo fatto una grandissima prestazione abbiamo commesso errori, alla fine ci è andata bene abbiamo dato troppo campo all'oro, sul 1-0 non siamo stati bravi a gestire se si va ad analizzare bene ci sarebbe anche la sconfitta oggi ma non è facile venire a giocare qui, lo sappiamo potevamo leggere meglio delle situazioni ultimamente chi entra dalla panchina ci sta dando tanto oggi invece hanno dato troppo poco ce la giocheremo tra una settimana con la Real Sociedad ma c'era marico perché con un po' di attenzione potevamo portarla a casa anche se poi ci stava anche la sconfitta potevamo gestirla un po' meglio e questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito l'appuntamento con le informazioni di Teleprima continua alle ore 21 buon proseguimento con la programmazione di Teleprima questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental due marche del gruppo Marican azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili grazie a tutti